Facciamo il bagiele della partitaccia di ieri, una delle più brutte partite come hai visto in generale Milinkovic-Savic 4 e mezzo Buongiorno 6 meno Schurz 6 e mezzo Rodriguez 7 e mezzo Lazzaro 6 Bellanova 6 Ilic 6 meno Tameze 7 Radonici 5 e mezzo Sec 6 e mezzo Zapata 6 e mezzo Blasic 4 Mi ha rotto il cazzo Fantasma, basta Sanabrie Sette Pellegri NG Karamo Sette